Cari amici, eccoci di nuovo nei campi, è primavera e parliamo di uno dei più bei fiori della primavera, il Lilium Tigrinum. Prima di cominciare ti ricordo però di iscriverti nella lista d'attesa, perché le iscrizioni e le tasse sono già chiuse, a quel meraviglioso percorso che è la Masterclass, a cui io sto dedicando tutte le mie energie e nell'ambito del quale approfondisco tutte le tematiche della medicina naturale, delle quali parlo nei podcast, nei video, nelle lezioni, eccetera, eccetera. Il Lilium Tigrinum è una pianta estremamente interessante, fa parte, come dice il nome, della famiglia delle liliacee, è la famiglia dell'aglio, della cipolla, quindi piante commestibili, ma anche piante importanti a punto di vista medicinale, che sappiamo quanto sia importante venire con l'aglio per le problematiche dell'intestino, per le poliposi, eccetera, eccetera. Però di questa pianta, di questa famiglia fanno parte anche piante molto velenose, come per esempio il colchico, è una pianta che si usa in piccola quantità per la gotta, per esempio, che si usa anche in piccolissima quantità, si usava soprattutto nelle forme tumorali. Ebbene, il Lilium Tigrinum è questa, non può essere usata come di per sé, non si può mangiare questa pianta, è sostanzialmente una pianta velenosa, è una pianta che si usa in omeopatia, quindi si può usare, se uno prende la pianta, la pianta intera, compresa la radice, ne fa una tintura, un estratto, si può mettere semplicemente la pianta con la radice di una boccia di alcol all'80%, acqua e alcol all'80%, si lascia lì per un mese, dopodiché c'è una tintura madre di questa pianta. La tintura madre del Lilium Tigrinum è estremamente interessante per tutte le problematiche femminili. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire problemi della menopausa, vuol dire pesantezza uterina, vuol dire fibromi, vuol dire anche tutte le problematiche psicologiche legate alla femminilità e alla menopausa in particolare, vuol dire dolore ovarici, eccetera, eccetera. Quindi è una pianta che agisce sulla parte pelvica femminile. La cosa interessante è che ha dei sintomi molto simili a quelli di un'altra sostanza molto usata in omeopatia, che è la sepia. La sepia si usa anche questa per la ptosi uterina, per la tendenza menopausale, sia psicologica che fisica, che vediamo nella donna. Però il Lilium Tigrinum è proprio la controparte. Mentre la sepia è la donna in menopausa, si usa per la donna in menopausa che è depressa e trasandata, il Lilium Tigrinum si usa per la donna in menopausa che però è esaltata. La sepia ha la repulsione per il rapporto sessuale, l'Igium Tigrinum ha l'attivazione del rapporto sessuale, anzi è esageratamente sessualizzata. D'altra parte, guardiamo un po', se noi guardiamo anche l'aspetto della sepia, che è un mollusco, questo flaccido mollusco, che proprio riflette la flaccidità di sepia, e invece guardiamo l'eleganza di questo fiore. Vedete, questo richiama, secondo me, in molti aspetti anche l'organo sessuale femminile, se vogliamo, sotto alcuni aspetti. Quindi c'è sempre questo concetto delle signature. Però femminilità, però molto vivace. Femminilità nella sua fase finale, nella sua parte menopausale, ma con una grande sensibilità dei recettori cellulari agli ormoni, a questi residui ormoni, però anche, chiaramente, disturbi psichici e fisici legati a questo cambiamento, al climaterio, al gradino del climaterio. Quindi pianta estremamente interessante, perché ci sono poche, in realtà, sostanze chimiche, farmacologiche per questo. La fauna prende un sedativo, prende un psicofarmaco, prende, ecco, quindi una donna in menopausa che si è, per esempio, trascurata sessualmente dal marito, dovrebbe prendere, o cambiare marito, ovviamente, o prendere il lignum tigrinum in forma ammiopatica, al 200 CH. Viceversa, seppia, sempre al 200 CH, è la donna che invece è felice di essere trascurata dal marito, perché ha completamente assenza di desiderio sessuale. Quindi, mentre il lignum tigrinum si vestirà in modo meraviglioso, come si è vestito questo fiore, seppia invece sarà trascuratissima, quindi quando arriva il marito a casa, vede questa trasandata seppia, non è certo stimolata per il desiderio sessuale, e lei sarà felice. Il lignum tigrinum invece si veste meravigliosamente, che si addobba, si trucca, eccetera, arriva il marito e non la guarda nemmeno, ovviamente va in depressione e poi cosa succederà? Ma non lo posso sapere. Quindi, vedete il linguaggio dei fiori, il linguaggio della natura, in cui è importante alcune volte prendere il fiore in sé, la pianta in sé, alcune volte il fiore anche diluito, anche velenoso, comporta una grande importanza sul piano terapeutico. Arrivederci al prossimo video.